Ciao, mi chiamo Alitia Figlioli, ho 20 anni e sono stagnola, studio economia e international business, vi direi, cioè tu hai l'opportunità sia di crescere con delle persone che sono di ambienti diversi, che addirittura spostarti e cambiare posti, cambiare culture, eccetera, e tutto ciò ti dà l'opportunità all'ese in più di continuare a studiare gli stessi studi con gli stessi esami in tutte le serie. Io ad esempio ho avuto l'esperienza di lavorare da Max Mara, grazie al mio placement officer che mi ha approvato questo stage, molto interessante, a Reggio Emilia proprio in azienda, quindi a diretto contatto proprio con i manager della grande azienda come Max Mara, cioè una cosa incredibile anche perché io in quel momento avevo 18 anni, quindi capirai, e quindi diciamo che è stata un'esperienza bellissima, ho lavorato lì 4 mesi, ho proprio conosciuto un sacco di persone, io lavoravo nell'ufficio vendita estere e quindi venivano gente da tutto il mondo che avevano un negozio di Max Mara dappertutto e venivano a vedere le collezioni nuove, nuove eccetera, lavoravamo insieme alle modelle e un po' le venditrici di Max Mara eccetera, una cosa molto interessante e mi ha formato bene.